I carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Salerno hanno apposto i sigilli di sequestro ad un noto impianto di trattamento di rifiuti speciali ubicato nel comune di Battipaglia. Nell'ambito delle attività di monitoraggio e controllo sul rispetto della normativa ambientale disposta dalla Procura della Repubblica di Salerno, i militari hanno ispezionato l'impianto di trattamento accertando che i responsabili eseguivano l'esercizio dell'impianto in violazione ai provvedimenti autorizzativi concessi, anche superando i quantitativi massimi di rifiuti stoccabili ed in assenza di cautele e delle prescrizioni impartite. All'esito degli accertamenti di rito da cui è scaturita la denuncia dei responsabili su richiesta con Corte della Procura della Repubblica, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha emesso un decreto di sequestro preventivo dell'intero impianto, onde precluderne la disponibilità agli indagati e di interrompere l'illicita attività. Grazie a tutti!